Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Campo sportivo del Valmetauro Calcio saccheggiato dai ladri Frana di Orciano, partiti lavori per chiudere la voragine A Pesaro un tir centra le fioriere, spacca di nuovo il selciato Il fanese Mauro Papalini e il nuovo presidente di Confindustria Marche Nord Fanno Teatro e record di abbonamenti, l'11 ottobre la prima Buonasera cari telespettatori di Fanno TV, lo avete sentito dai titoli Non si arresta l'ondata di furti negli impianti sportivi Questa volta è toccato all'impianto di calcio dove gioca l'Sd Valmetauro Vediamo com'è andata Un altro impianto sportivo preso di mira dai ladri e come sempre tanti danni Mascarno Bottino Questa volta e dopo il tiro a volo è toccato le strutture gestite dall'associazione sportiva Valmetauro Due campi da calcio in erba, spogliatoi e due depositi Come da prassi entrati ovunque alla ricerca di chissà quali tesori nascosti Mettendo tutto sotto sopra Sono passati dalla recinzione sul retro, tagliando la rete al riparo Dalle forti luci che illuminano la zona provenienti dalla vicina centrale Enel Ed una volta dentro, rotta la serratura del magazzino attrezzi Da dove sono state portate via alcune latte di benzina Sono passati poi ai lucchetti del deposito sportivo Dove hanno portato via quello che c'era Tra cui un vitale defibrillatore Di cui la società era stata dotata con una donazione Da parte dell'assessorato allo sport Del valore di un migliaio di euro Che ora dovrà essere ricomprato Dalle casse della società Pena la sospensione delle attività agonistiche Sì, mi ha chiamato al mattino alle otto e mezza Che era venuto lui per fare il solito taglio dell'erba Mi dice qui è tutto rovinato, è tutto spaccato Vieni subito Dopo sono venuto io insieme al Presidente A fare il sopralluogo E abbiamo visto i danni che avevano procurato alla fine Il valore forse non eccessivo Ma i danni da rimettere a posto Abbastanza Danni alla struttura A parte il disordine Però insomma tutto sommato L'hanno rotto lucchetti eccetera Per entrare Armadietti come no Però niente di particolare Anche perché I valori non è che poi ce ne siano chissà quanti Il valore è poco qua Tra l'altro voi avete un'attività agonistica Abbastanza importante Questo non subirà contraccolpi però No, adesso quello no sicuramente Abbiamo cercato di riparare i guasti I guasti che hanno creato loro Per poi ripartire Su, cioè ripartire Adesso bisognerà ricomprare appunto Come detto nel servizio Il defibrillatore Perché è un presidio medico importantissimo Che ha salvato in tanti casi Le vite proprio degli sportivi Allora è stato intercettato dagli agenti Della Polstrada di Pesaro Lungo la strada provinciale 43 Nel pomeriggio di martedì Un furgone che alla vista della pattuglia Ha tenuto un atteggiamento sospetto Attirando però così L'attenzione degli agenti della Polstrada Dopo il controllo dei documenti I poliziotti hanno ispezionato il carico E qui sono arrivate le sorprese All'interno del vano Addibito al trasporto Numerosi pezzi meccanici ed accessori Verosimilmente appartenenti a motocicli Di diversa cilindrata e marca Svariate parti di ricambio E telai Tra alcuni di questi Veri e propri reperti storici Anche il telaio di un ciclomotore Modello Ciao Ancora con il suo colore originale Bianco Gli agenti della Polstrada A quel punto sono riusciti a riesumare Una denuncia di furto Presentata Pensata nel lontano 1980 Anno in cui una donna di Cremona Ne avrebbe denunciato il furto Tutte da accertare Quindi le dinamiche Della misteriosa riapparizione Sul territorio pesarese Dopo quasi 37 anni Della originaria denuncia Il conducente del mezzo Un quarantenne di Urbino Tuttavia Non privo di precedenti Segnalazioni alla Polizia Per analoghe circostanze E' stato denunciato Per ricettazione Ora Agli agenti Spetta l'arduo compito Di ricostruire La trafila Di questi reperti storici Trafugati E quindi questa vicenda Ci insegna che Mai disperare Non si sa mai Insomma Voi la denuncia fate E poi chissà Magari Dopo qualche svariate decine di anni Non si possa ritrovare Il maltolto Ed ora andiamo ad Orciano Perché buone notizie Per gli abitanti Non solo di quella cittadina Ma anche del circondario Perché Da qualche settimana Sono iniziate Importanti lavori Vediamo dove Erano da poco passate Le otto di sera Quando lungo La strada principale di Orciano Si aprì una voragine Lunga Una ventina di metri E profonda Dieci Il tutto In una manciata Di pochi minuti Tragedia Sfiolata Per un pelo Allora Pochi istanti Prima che l'asfalto Fosse inghiottito Dalla terra Era passato Un pulmino Pieno di ragazzini Che tornavano Da un allenamento Di calcio E solo il sangue Freddo Di Martina Una ventina Del posto Accortasi Di tutto Che ha fermato In tempo L'ultima corsa Dell'autobus Per barchi Da allora Il baratro È lì Sotto gli occhi Di tutti Immobile E immutato Da quel 2 ottobre Fino a poche settimane fa Quando però Finalmente Con i tempi salomonici Si è iniziato A lavorare Alla buca Come ormai Scherzosamente Gli abitanti del posto Hanno definito Il luogo Ora Il neosindaco Sebastianelli Si augura Che questo Non sia l'unico Intervento Sulla rete Viaria Di terre roveresche Un momento importante I lavori sono iniziati Stanno procedendo Speriamo nel tempo Che non li rallenti Chiaramente È doveroso dirlo Il cantiere È stato finanziato Grazie all'intervento Della provincia Di Marche Multiservizi E della regione Marche Chiaramente Il fatto Della frano Ha messo a dura prova Sia Il vecchio comune Di Orciano di Peso Oggi Fa parte De terre roveresche E chiaramente Anche tantissime aziende Di questo territorio Dei territori limitrofi Che hanno trovato Grosse problematiche Dovute All'interruzione Di questa strada Molto importante La viabilità Per voi È un punto Cruciale Lei si augura D'amministratore Che presto Qui ci sia Un occhio Un focus Da parte Della provincia Proprio su questo aspetto E io spero Vivamente Che dopo Tanti 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 anni Ci sia Un occhio di riguardo Perché abbiamo La SP16 Orcianese Che sapete È abbastanza In condizioni Molto critiche E poi abbiamo Anche la SP5 Biscuila Che va Scende giù A San Filippo Uguale Anche la situazione Veramente È molto Grave E quindi spero Che la provincia Abbia veramente Un occhio di riguardo Perché chiaramente Anche questo È un territorio Importante Ed è al pare Di tanti altri Un territorio Che deve essere Comunque sia Seguito Sul quale deve investire È vero Che le risorse Sono poche Ma forse È giunto Il nostro momento E andiamo a Pesaro Dove questa mattina Nella rinnovata Via San Francesco Uno spettacolo Inaspettato Per tanti passanti Un gigantesco tir È rimasto Incastrato Tra le fioriere Antintrusione Messe a protezione Della piazza E se non fosse Per l'apprezzabile Risultato Di aver assolto Il loro compito Le barriere Hanno però costretto L'autista A manovre impegnative Aiutato anche Da qualche passante Ma nota Stonata Della vicenda I danni causati Dal tir Alla pavimentazione Nuova di Zecca Il mezzo pesante Era entrato Nella piazza Per scaricare Le piante Per la festa Dei fiori Che si tiene A Pesaro In questi giorni Torniamo a Fano Ma per parlare Di qualcosa Che riguarda Non solo La provincia Di Pesaro Urbino Tutto il distretto Marche Nord Perché Mauro Papalini Imprenditore fanese Di successo Presidente Della Papalini SPA Un gruppo Di 1800 dipendenti Che serve 600 aziende Sparse su tutto il territorio È stato eletto Questa sera Questo pomeriggio Nel tardo pomeriggio di oggi Al Teatro della Fortuna Dall'Assemblea dei Soci Come il nuovo presidente Della Confindustria Del distretto Marche Nord Noi lo abbiamo intervistato Proprio subito dopo La nomina Presidente È un pensiero a caldo Per questa nomina Che arriva Dopo un percorso Già Nell'associazione E quindi Comunque Un riprendere Un filo conduttore Con il passato Beh Diciamo che non è Un prendere Un filo conduttore In quanto Non si è mai smesso Cioè Con diversi ruoli Diversi incarichi Ho sempre Contribuito Alla vita associativa Non solo Per dare Una disponibilità Ma soprattutto Perché per me È stata Una scuola di esperienza All'interno dell'associazione Ho potuto apprendere Tanto Imparare tanto Sono cresciuto Con i colleghi Imprenditori Nel confronto E soprattutto Nell'avere visioni Anche Anche diverse Questo Aiuta Poi Non solo Nel mondo associativo Ma aiuta Anche nel mondo Dell'impresa Quando si ritorna a casa E Dover Ecco Produrre Qual è lo stato di salute Delle nostre imprese Volendo Fare un piccolo focus Su questo Su questo aspetto Beh Lo stato di salute Chiaramente Questi anni Sono stati anni difficili C'è stata Una Selezione Anche di imprese C'è chi Ci ha creduto E ha innovato All'interno Della propria azienda E questo oggi Gli sta portando Vantaggi Successo Pertanto Imprese Che hanno investito E creduto Anche in un momento Particolare Oggi Inizia a vedere Averne I propri frutti Chi invece Ha aspettato Che Fosse un passaggio Di crisi E poi Riprendesse Tutto come prima Chiaramente Queste imprese Hanno più difficoltà A riprendersi A riconquistarsi Le quote di mercato E rimaniamo Nello splendido gioiello Di famiglia di Fano Il Teatro della Fortuna Perché fra pochi giorni Prenderà il via La stagione di prosa Con numeri Però Da record Sentiamo Numeri di grande portata Quelli mostrati Da una raggiante Cati Amati Nella conferenza stampa Odierna Nella biglietteria Del Teatro della Fortuna Sfondato Il muro Dei mille abbonamenti Con un più 33% Rispetto all'anno precedente Confortano non poco La fondazione Della sua giustezza Della politica Intrapresa In questa gestione Che ha messo Al centro Della vita sociale Della città Il polo culturale Di maggior pregio Il Teatro della Fortuna Ecco Sono tutti risultati Importanti Che ci fanno comprendere Come lavorare Tenere aperto Questo teatro Poi Con dei prodotti Importanti Interessanti Che hanno tenuto Conto un po' Di tutto il gusto Di coloro Che frequentano il teatro E che In qualche maniera Nello scorso anno Ci avevano anche un po' Suggerito Quelli che potevano essere I titoli più accattivanti Per cui abbiamo Dalla settimana prossima Bentivoglio Con un titolo importante Poi abbiamo Il nome della rosa Re Lir Abbiamo un Neri Marco Re Che ci farà Ci delizierà Delle canzoni Importanti E poi Chiuderemo Con uno spettacolo Che non è un musical Ma sempre Con l'Orella Cucarini Che interesserà La famiglia In modo particolare Sette titoli Sette titoli Veramente per tutti i gusti Per cui Vi aspettiamo In tanti ancora Bene In ambito di cultura Vi segnaliamo Nei giorni 6, 7 e 8 Di ottobre Affano La quarta edizione Delle giornate Del premio letteraria Un riconoscimento Per la narrativa Edita in lingua italiana E in traduzione Nonché il festival Della promozione Del libro E della letteratura Tantissimi I giovani Delle nostre scuole Coinvolti Da questa Bella iniziativa Sentiamo Allora letteraria Torna nuovamente A far sentire La sua voce Al grande pubblico Fanese Certo Le giornate Di venerdì Sabato Domenica 6, 7 8 ottobre Vedranno nuovamente Letteraria Protagonista Nella città di Fano Letteraria Un premio Di narrativa Edita Nell'ultimo anno Strutturato In due sezioni Una Narratori Italiani Autori E una Invece Autori Stranieri In traduzione La peculiarità Di questo premio È il fatto Che la giuria È costituita Dai gruppi Di lettura Che spontaneamente Si formano All'interno Delle scuole Superiori Della provincia Di Pieser Urbino I ragazzi Infatti Garantiscono Un ugual numero Di letture A tutte le opere In concorso Quest'anno 67 Inviate Dalle più Importanti Case Editrici Italiane E gli stessi Ragazzi Appunto Decretano Le due Cinquine Finaliste E solamente Nella serata Di sabato 7 ottobre Alla sala Verdi Del teatro Della fortuna Di Fano Verranno Proclamati I due Vincitori Autori E traduttori Appunto Comunque Tutto il programma Compresi anche I protagonisti Di questa edizione È visionabile Immagino Da qualche parte Certo Soprattutto Soprattutto Nel nostro sito www.premioletteraria.com E anche Nei vari punti Della città Come La Mediateca Montanari Biblioteca Dove sono presenti I vari opuscoli Informativi Venerdì E sabato pomeriggio Ci saranno Due lezioni Magistrales Venerdì Alle 18.45 Di Salvatore Basile Che racconta Come i testi Possano essere Anche Scene Sceneggiati E chiudiamo Questa edizione Del telegiornale Con una notizia In campo Gastronomico Questo è il periodo Del tartufo E domenica prossima Ci sarà la seconda Domenica Gran Gourmet A Pergola Madele Allora Questo Tartufo Sembra essere Veramente una risorsa Inestimabile Del vostro territorio Grande testimonial Di tutto il nostro territorio Metto dentro anche Fano E la zona costiera Perché la nostra provincia Ha grandissime risorse Alcune Ci vengono fornite Anche dalla nostra terra E quindi Il tartufo Diventa un ambasciatore Di tutta la nostra provincia Dico di tutta la nostra regione Con l'eccellenza Delle fiere nazionali Una delle quali Si celebra proprio A Pergola Siamo arrivati Alla seconda domenica La prima ci ha dato Grande soddisfazione Con tanti turisti Tra l'altro Tanti arrivati anche Dal fanese E come è il borsino Del tartufo Tanto che poi alla fine Quello sollettica molto La fantasia Dei gourmet Quest'anno Come si presenta La stagione? La stagione Da un punto di vista Di profumi Ottima Ve lo posso dire Proprio perché Domenica ne abbiamo Avuto la conferma Dal punto di vista Dei prezzi Visto che la quantità Vista l'enorme siccità Di questo periodo estivo La quantità è scarsa Per cui andiamo Dai 1800 euro al chilo Fino ad arrivare Pezzi più belli Intorno ai 5000 euro Il chilo Ma noi superiamo La difficoltà economica Perché l'amministrazione Comunale La nostra città Nella fiera nazionale Del tartufo Offre speciali pacchetti Cultura e cucina Quindi indipendentemente Dal prezzo del tartufo Possiamo dire Che è veramente La fiera nazionale Del tartufo pregiato Che si svolge a Pergola È una fiera popolare E questo lo testimonia Anche il fatto Dei tantissimi espositori Che offrono Tantissime occasioni Ai visitatori Di Pergola 4000 metri Quadrati Di esposizione Di prodotti tipici Di altissima qualità Provenienti da oltre Dieci regioni italiane La prossima domenica Avremo Quindi la domenica Dell'otto Anche rappresentanze Di stati esteri E poi 4200 metri quadrati Di fiera commerciale Bene Trifola per tutti Quindi E con quest'ultima notizia Chiudiamo quest'edizione Di Occhio alla notizia E naturalmente Vi lascio in compagnia Dei nostri programmi Box In cucina Con lo chef E poi uno speciale Sulla presentazione Della prima squadra Del Fano Rugby Avete visto però Il nostro numero Per le segnalazioni Sovra in pensione Scrivetelo Annotatevelo Perché è importantissimo Per noi Avere da voi Tutto quello che avviene Nel nostro territorio E sotto i vostri occhi Grazie E buona serata E arrivederci a domani Grazie 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 Grazie